Le precarie condizioni di salute di Sandro Groppi potrebbero peggiorare se fosse costretto a lasciare la sua abitazione. Lo mette nero su bianco il medico legale Massimo Pagliara, nel parere che ha espresso sul pensionato piacentino di 86 anni, vittima di un garbuglio giuridico dal quale non riesce a uscire e che potrebbe avere come esito ultimo quello di lasciarlo senza un tetto sopra la testa. Dopo aver sottolineato la fragilità in cui si trova il pensionato sia nella sfera fisico-motoria che mentale, così si legge sulle carte, il medico afferma che un eventuale sradicamento dal contesto abitativo abituale metterebbe a serio rischio questo precario equilibrio neurocognitivo con probabile evoluzione peggiorativa dello stesso, anche in tempi medio-brevi. Il parere è stato depositato nel corso dell'udienza che si è tenuta lunedì davanti alla giudice Evelina Iacquinti della sezione esecuzioni immobiliari di Piacenza. Infatti, l'appartamento di Via Emanuele, che nel 2007 il pensionato pagò 369 mila euro, è stato pignorato, messo all'asta e venduto. L'acquirente ha pagato 172 mila euro e ne reclama la consegna. L'ufficiale giudiziario si è già presentato a casa di Groppi lo scorso 4 settembre e il secondo appuntamento è stato fissato per il 23 ottobre. Quel giorno all'antiano potrebbe essere chiesto di uscire di casa. I tempi della procedura incalzano e l'avvocato Francesco Guelli, difensore dell'antiano, sta facendo di tutto per tirare il freno. È una vicenda kafkiana quella che vede protagonista Groppi, per cui si è mobilitata anche la capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, Sara Soresi. Di fatto Groppi pagò una serie di anticipi che coprirono interamente il valore della casa, ma il costruttore, a cui vennero versati i soldi, non si presentò mai a rogito. L'atto di vendita così non venne formalizzato e questo pesò sugli avvenimenti successivi. La società costruttrice ha disatteso l'intimazione di un giudice di Piacenza a saldare il debito con la banca e l'appartamento non è mai stato sgravato dal fardello dell'ipoteca. Si arriva così oggi al pignoramento e alla vendita all'asta.